Nel mio intervento ho sottolineato il fatto che il paesaggio del passato ci appartiene, quello del presente lo giudichiamo per quello che è, abbiamo ancora poche informazioni sul paesaggio del futuro. Il rischio è che il paesaggio del futuro ci piombi addosso senza averlo previsto, coordinato e in qualche misura indirizzato a degli obiettivi di qualità paesaggistica che invece la Convenzione europea del paesaggio ci chiede di allestire. Quindi come progettista di paesaggio invito in qualche misura sia il convegno sia le autorità locali a prendere atto di questa opportunità e o dovere che noi tutti abbiamo nei confronti del paesaggio prossimo venturo.